Bentornati raga sul mio canale youtube Megazord186 Oggi inizierò a fare dei primi video di Fortnite e iniziamo a giocare Vai oggi giocheremo con Niki Bella E faremo una duo Vai vai metti pronto metti pronto 18 Oh madre di dio Madre di dio Ah la dov'è Ehi brutto bastardo C'è un po' di dio Ecco cane C'è stato ancora quello A terra uno Bravo Mi fa cadere Dove è? Fanno cadere E' una meraviglia Sono andato il bastardo Dove? Ah E' sull'albero Vabbè Prendiamo Dove è l'ultimo dell'altro? Eh non ho ancora ammazzato Aspetta 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 Nooo Sono un coglione Io prendo il pompa blu No non è vero Si è vero Sono un coglione Noi che voglio vedere Dove è la sua compagna Aspetta che lo fa il medico Ma se no ce lo sparo bene Ah vabbè Io però mi sparo le scelte E' un po' vicino però eh Sarà nata l'agenzia Che bastardo Ha lasciato il suo compare Che bastardo Ah la Aspetta Sono un po' Solo un po' Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua 10 Non Questa Non ho Non ho Non ho Non ho E' la Basta 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 S dunk Alpha 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 hilft 80 si non muoto l'inchilistro di me adesso compare lo vedi là? occhio che c'è il cerchino ma non è se il cazzo ah l'ho visto l'ho visto andiamo con se ci chiediamo figa nera ecco la colite c'è un altro dietro muore un brutto stronzo oddio che quale che è quello la ma c'era un altro dietro albero ma sono un due non è che non ho tolto niente non lo vedo più buono io c'è un medic se vuoi anche c'è un precarante alla zona hardrope e l'ho sbagliato sbagliato la c'è una cassa 27 volevo capire dov'era ancora quello la voglio dire di farci un fortino ma io voglio mettere quella casa lì no no l'ha tirato un altro e poi non vedo nessuno di chi sono ancora l'acqua lì a occhi al centino puntato e dov'è che è davanti noi ha l'ho visto che sta arrivando 100 c'era l'aria minchia che fenomeno non terremoto non è ancora quello di un altro si ancora per me sono da fare che esili finiti non stare vanno un altro che l'isciata l'ho fatto non non ti ha preso ma c'è un valore occhio proprio oddio no c'è nessuno altri quali sono proprio in mezzo io santissimo andiamo da quelli la nikki si chiude alle nostre spalle quindi poi si ammessi meglio adesso è una situazione un po' rimanere da tempo non vedo quello non posso modificare non lo vedo 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 ora stai calma è importante che non ti fai prendere perché c'è nasce pusho lì c'è un centino pinto lato come gli altri che sono andati di la destra potrebbero andare a riuscire a raggiare e perché visto ma che stavo costruendo qui no cazzo c'è un antone dropponi che ho fatto accadere sto volando ok abbiamo ancora si resta camper che è canterato nel tuo box sto così fino di materiale perché vuole provare a sparare quello l'anno senza cecchino impossibile poi ci sono gli altri due pur co2 aiuto a solo 30 di loro allora la c'è in pace bella 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 c'è moda di riso la sotto livelli aumentato 20 sono stati sono in solta arrivata ma che cazzo anche era anche mi sa che uno sta arrivando a nonno sulla sola su tutti la 3 1 2 3 4 6 giù che c'è l'altra puntata sta giù l'altro puntato bimba bimba porco 2 di un porco 2 no ma porco cane non lo scende lo facciamo sparare son qua dio cari continua a sparargli che io mi sto medicando e lo so 4 24 di vita 1 la sotto però se butto fuori la testa con i miei disintegra ma che coglioni però ma stavo mirando te in due secondi ma porco che cancri quelli con l'anciarazio vabbè stavo 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 Grazie a tutti.